Obbligatorietà del casco e riduzione dei limiti di velocità sono questi due capisaldi di un'ordinanza firmata dal sindaco di Rozzano e Gianni Ferretti destinata a chi utilizza monopattini elettrici sul territorio comunale, previste multe salate a carico dei trasgressori. L'ordinanza inoltre estende su tutto il territorio del comune l'obbligo di indossare il casco che era già obbligatorio per i minori di 18 anni e da oggi lo sarà anche per i maggiorenni. Il provvedimento impone infine i limiti di velocità cioè 20 km orari sulla carreggiata e sulle piste ciclabili e di 5 km orari nelle aree pedonali. A Rozzano siamo intervenuti nell'ambito della mobilità urbana in particolare per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Come tutti sappiamo a seguito della pandemia Covid sono molto diffusi ormai sul nostro territorio i monopattini, l'utilizzo dei monopattini. Allora abbiamo deciso di intervenire perché molti cittadini ci hanno segnalato un uso non propriamente corretto di questo veicolo perché comunque è un veicolo. Quindi abbiamo deciso di estendere l'obbligatorietà del casco anche alle persone maggiorenni e qualora questo non venga rispettato c'è una sanzione di 150 euro. Oltre a questo abbiamo messo un limite di velocità quindi su strade e carreggiate il limite di velocità è di 20 km orari mentre invece nelle aree pedonali di 5 km orari. In questo caso il trasgressore sarà punito anche qui con una sanzione di 100 euro. Il tutto ovviamente per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e andare incontro alle loro esigenze. E per un'amministrazione comunale la sicurezza è al primo posto. E per un'amministrazione comunale la sicurezza della sicurezza della sicurezza della sicurezza della sicurezza.